indispensabile veicolo di civiltà per lo sviluppo del nostro Paese. Si creano le condizioni per produrre un decisivo miglioramento nella qualità dei servizi. Si potenzia un'affermazione dei diritti dell'infanzia, una diffusione della qualità della cura educativa per tutte le persone in situazioni di fragilità e per coloro che sono in cammino nei sentieri educativi. Dunque, riconoscere un profilo professionale alle figure di educatore e di pedagogista significa conferire un valore fondamentale alle relazioni educative come patrimonio che un Paese civile deve sapere e volere preservare. Grazie. Grazie, onorevole Iori. È scritto a parlare il deputato Brescia. Prego, a facoltà. Grazie, Presidente. La proposta di legge in discussione intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e di pedagogista al fine di garantire con omogeneità in tutto il territorio nazionale servizi e interventi educativi di qualità e al fine anche di valorizzare le due professioni garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione Europea in materia di educazione formale, non formale e informale. La platea a cui si rivolge questa proposta è composta da più di 150.000 persone che ogni giorno lavorano nelle situazioni più disparate, sempre a contatto con i più bisognosi. Si va dai servizi educativi di accompagnamento alla crescita di individui e gruppi ai servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare, i servizi educativi per la prima infanzia, servizi educativi per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti, l'inclusione sociale in contesti socio-territoriali svantaggiati, servizi per gli anziani, servizi di promozione del benessere della salute, servizi di educazione formale e non formale per adulti e ancora servizi educativi ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età, servizi di educazione ambientale e sui beni culturali, ancora servizi per le tecnologie informative, comunicative, multimediali, servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi per la rieducazione e risocializzazione dei soggetti detenuti fino ai servizi educativi per le pari opportunità. Stiamo parlando dunque di lavoratori che hanno a che fare ogni giorno con soggetti sensibili, i più sensibili e i più deboli in assoluto, i bambini, gli adolescenti, i disabili, gli anziani detenuti, eccetera. Quindi il loro è un lavoro delicatissimo e che può essere affrontato nel migliore dei modi solo ed esclusivamente con un'adeguata formazione e senza che nulla sia lasciato all'improvvisazione. La legge, infatti, oltre a definire e riconoscere le due professioni, cerca di porre fine al caos che dura da sempre in questo settore, stabilendo che l'esercizio della professione è consentito solo a chi possiede le qualifiche di educatore e di pedagogista, attribuite all'esito del percorso di studio universitario specificamente indicato e non anche a chiunque manifesti un po' di buona volontà e pazienza, come accade purtroppo tuttora. Con l'entrata in vigore di questa legge, il possesso delle qualifiche di educatore e di pedagogista costituirà requisito obbligatorio per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, rispettivamente del lavoro educativo e pedagogico. E questo è senz'altro un risultato importantissimo che si raggiungerà con questa legge per la quale in molti saranno grati al Parlamento. Saranno grati tutti coloro che questo percorso universitario lo hanno già fatto e chi lo sta sostenendo e che in questo modo non si sentiranno più professionisti di serie B. Ma cosa più importante di tutte, per questa legge ci ringrazieranno le tantissime persone che dei servizi forniti da educatori e pedagogisti usufruiscono e le rispettive famiglie, alle quali sarà garantito un supporto di qualità. Ma, come in tutte le cose, c'è un ma. Attualmente nell'ordinamento esiste un educatore riconosciuto e si chiama educatore professionale. Chi ascolta da casa dirà, ma in che senso? Non si è appena detto che questa legge è fatta appositamente per riconoscere questa professione e ora si dice che è già riconosciuta. E allora bisogna spiegare l'equivoco. Il Ministero della Sanità, attraverso il decreto ministeriale dell'8 ottobre 1998, numero 520, nell'individuare le figure professionali e i relativi profili relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, stabilì che l'educatore professionale è l'operatore sociale sanitario che, in possesso di diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un equip multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato da persona con obiettivi educativo-relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana. Cura il positivo inserimento e l'inserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà ed opera all'interno di strutture socio-sanitarie riabilitative e socio-educative. Con questo decreto il Ministero della Sanità, nel 1998, creò il problema, la dicotomia tra gli educatori che si laureano a scelte della formazione, a cui questa legge cerca di dare giustamente dignità, e gli educatori professionali che si laureano a medicina, che sono già riconosciuti. Ma evidentemente da allora, dal 1998, hanno assunto un'impropria denominazione per la propria qualifica, che andava a creare confusione sicuramente a danneggiare coloro che seguivano e tuttora seguono i corsi di laurea presso scienze della formazione. E vedete, questo problema, quello della confusione tra educatore professionale ed educatore, è reale e richiede di essere affrontato perché produce effetti dannosi sia nella qualità dell'offerta educativa, sia nei giovani che intraprendono la professione, sia nelle istituzioni che nell'utenza. Ma è questo il nodo annoso che invece questa proposta di legge non scioglie. È quello relativo appunto a questo dannoso equivoco venutosi a creare al momento della denominazione della qualifica per il personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione. In Comitato Ristretto si è lavorato molto approfonditamente per cercare di migliorare la qualità della proposta iniziale e sicuramente in parte ci si è riusciti. Un risultato su tutti che rivendichiamo con gioia, raggiunto proprio grazie alla volontà di rendere questi percorsi quanto più qualificanti possibile, è stato quello di prevedere il carattere abilitante per coloro che conseguiranno la qualifica di pedagogista. Una proposta del Movimento 5 Stelle accolta all'unanimità dal Comitato, un risultato di cui siamo felicissimi. Ma purtroppo sulle altre questioni sollevate, sulle soluzioni proposte, tese proprio al superamento di questo problema e anche e soprattutto alla previsione di una prospettiva formativa nuova, più completa e adeguata per gli educatori, non si è riusciti ad advenire a conclusioni condivise. Come abbiamo detto sin dall'inizio del percorso di questa proposta, siccome ne condividiamo profondamente l'intento generale, non faremo nulla e nulla abbiamo fatto per ostacolarne o anche solo rallentarne l'iter. Ma di certo si poteva fare qualche sforzo in più per affrontare e risolvere questa immotivata dicotomia tra educatori ed educatori professionali che questa legge non supererà ma trasformerà in una nuova immotivata dicotomia tra educatori professionali sanitari e educatori professionali sociopedagogici. Si è incomitato ristretto che qui in aula con i nostri emendamenti noi ne proponiamo il superamento, il superamento di questa divisione, prevedendo innanzitutto un percorso di formazione unico e abilitante, con un'unica qualifica di educatore professionale. Questa soluzione che al tempo stesso è semplice e rivoluzionaria avrebbe sicuramente sollevato un polverone inizialmente, generato magari mal di pancia, dico io soprattutto presso qualche università che avrebbe dovuto sopprimere alcuni corsi e far saltare delle cattedre e quindi avrebbe creato malumore anche in qualche docente, ma sicuramente a lungo andare avrebbe fatto il bene delle decine e decine di migliaia di studenti e futuri lavoratori del settore. Tutto questo alla Camera si è ritenuto di non poterlo fare per non mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo minimo che, lo ribadisco, noi condividiamo in pieno. Speriamo vivamente che si possa provare a farlo al Senato in seconda lettura, perché fortunatamente c'è ancora un Senato e una seconda lettura, dove proveremo con lo stesso atteggiamento di apertura e dialogo avuto sino ad ora a proporre le nostre idee. Grazie. Grazie, onorevole Brescia. È scritta a parlare la deputata Binetti. Prego, ne ha facoltà. Cambio posizione perché era... Cambio posizione. Ecco, spero che basti cambiare posizione. Questo disegno di legge è stato per me un disegno di legge molto complesso da analizzare e devo dire onestamente in molti momenti, in molte situazioni, in molte circostanze ho avuto la sensazione di essere l'unica dall'altra parte, per così dire, di una sorta di barricata culturale. Cioè l'unica realmente interessata a scandire non solo e non tanto le differenze, ma le specificità di diversi corsi di laurea, come d'altra parte si compete a una commissione sostanzialmente formata da...